Buonasera. Buonasera, D'Alema. Allora, prima di parlare della vostra amicizia e di tante altre cose, le chiedo subito di completare la lezione del professor Vecchioni. Lei si riconosce in questa distinzione? Lei dice paese o dice nazione? Io dico paese, però non criminalizzo il riferimento alla nazione italiana. Perché esiste una nazione italiana, esiste un tema della nostra nazione. Naturalmente noi siamo un popolo, c'è un'altra nozione, forse che io aggiungerei, popolo. Perché noi siamo stati un popolo prima di essere un paese, prima di avere uno stato e prima di essere una nazione. Perché avevamo una cultura, una lingua, certo. Eravamo divisi in tanti stati, ma c'è una storia del popolo italiano che comincia molto prima della storia dell'Italia. Gli italiani sono la storia dell'Italia. È vero, è verissimo. Guarda Massimo, c'è una frase qua del marzo 1821 di Manzoni che dice questa cosa degli italiani, vedi? Una d'arme di lingue d'altare... La nazione è una d'arme di lingue d'altare, di memorie, di sangue, di cora. È una frase di Manzoni. Questo è il senso della nazione. E allora ancora l'Italia non c'era ancora. A proposito di paese, di uno dei tanti meravigliosi paesi di cui ha fatto il paese Italia è Gallipoli. E so che Gallipoli è la ragione della vostra amicizia. Cioè, non lo so, Dallè, ma lei mi conferme perché ogni tanto Vecchioni le spara... Con me si diverte anche un po' a spararle grosse. Lui sostiene, lui, che ha passato una vacanza a Gallipoli a casa sua con Morandi. Anzi, ma neanche una vacanza lavoro, perché lei le avrebbe fatti anche lavorare. Io ho avuto veramente un grandissimo piacere di conoscere Roberto Vecchioni, sì, in questa dimensione privata, insomma. Gallipoli è sempre stata bella, lo è ancora. Allora era più bella, secondo me, perché forse era meno affollata di ora. Perché eravamo tutti più giovani, credo, no? Eravamo più giovani, ci siamo conosciuti. Loro andavano in vacanza in un posto meraviglioso di amici. Erano miei amici, non era a casa mia, ma erano miei amici. Io andavo spesso lì. Insomma, abbiamo avuto l'occasione di stare insieme, di parlare con libertà. E veniva sempre Gianni Morandi lì in vacanza. Anche lui era un appassionato di questo luogo, di quel mare. E devo dire che, sì, una volta li ho fatti lavorare. Ma loro ogni tanto, perché insomma questo era, adesso spiegherò, questo era un luogo di vacanze dove una vecchia masseria, una masseria antica sulle rive del mare, veramente un gioiello, dove tutti gli anni si ritrovavano in vacanza le stesse persone. Io andavo lì spesso appunto perché era a casa di amici. E loro ogni tanto cantavano, ecco, facevano, in questo senso lavoravano, diciamo. Perché loro fanno, Gianni Morandi e Roberto Vecchioni fanno un lavoro molto particolare, diciamo. Un lavoro che si può fare qualche volta anche in vacanza, diciamo. Io speravo che l'avesse fatto lavorare sul serio. No, una volta hanno fatto una cosa molto bella, perché io ero impegnato in una difficile campagna elettorale nel 2001 in cui la disputa era nel collegio di Gallipoli. Allora le elezioni avvenivano così, anche senza paracadute, nel senso che se si vinceva si vinceva, se si perdeva si andava a casa. E loro vennero, non so se avessero mai fatto una serata insieme, vennero loro due, senza le orchestre, vennero loro due con la chitarra, diciamo. E facemmo una serata. Vi ricordo che vennero anche altri amici. Venne Fazio, ve lo ricordate? Vennero altri amici. E facemmo Fabio, sì. E facemmo una serata sul porto di Gallipoli. Ci saranno state 15.000 persone. C'era un sacco di gente. E forse avrete cantato, scusate se la interrompo, ma forse avrete cantato la canzone del cuore di Massimo D'Alema, che è questa qua. Sentite. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi, quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Il treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va. Tu glielo chiederai, ma io so perché gli piace. Dopo glielo chiediamo, ma prima voglio sapere da te, come sempre hai un minuto di tempo, parte la clessidra, spiegarci una delle più famose del mondo. del Novecento, Ungaretti, dice che il poeta ogni tanto stravarica, se ne va per i fatti suoi. Parte in un modo e poi va per la tangente e dice cose che magari non riusciamo nemmeno a comprendere. Azzurro di per sé è una canzone semplicissima. È un uomo solo in città, probabilmente mezza deserta, che pensa alla moglie che è in vacanza. E dice quasi, quasi, prendo il treno e vado da lei. Però non è quella la soluzione, perché ha capito che c'è qualcosa di più dentro di sé che deve ammettere. E allora apparende un treno che va all'incontrario. E va all'incontrario verso i ricordi, verso quello che ha dietro, verso la sua vita di prima. E con questi ricordi ha anche fantasie, le fantasie di ragazzo. Quando sognava l'Africa, i baobab, quando giocava a pallone nell'oratorio e tutto quanto. E alla fin fine questo splen, questo nusquam, direbbero i latini, questo non luogo, si risolve, perché è riuscito a farci. Ci sono interpretazioni particolari su Azzurro. Lo so. La devo dire, almeno uno. Stanno innaffiando le rose. Stanno innaffiando le rose. Non è vero che sia che la moglie è un amante. Assolutamente non è vero. Perché è definito le rose. Stanno innaffiando le tue rose. Ma non è così. Non è la cosa. E il leone forse era un grande cane. E basta. Il leone era un grande cane. E resteremo con quello... Salutiamo Paolo Conte, naturalmente, che è il genio che ha creato questa canzone. Perché, D'Alema, questa è la sua canzone del cuore? Ma veramente perché è legato a un ricordo. È la canzone dell'estate del 1968 per me. E io... Naturalmente quello è stato un anno cruciale della nostra vita, anche della mia. Io ero studente e ricordo un anno di occupazioni, di battaglie, anche di studio, di cultura. Era anche il primo anno in cui vivevo fuori casa. E lei era la normale di Pisa, giusto? Sì, stavo a Pisa. E quindi... E quindi, devo dire, per me quella canzone è legata a questa straordinaria esperienza di vita. Di un ragazzo di 19 anni che si trova nella Pisa del 68, una capitale, diciamo, del movimento degli studenti e che vive le prime battaglie, i primi amori, tutto quanto, insomma. E quindi è molto personale. Ma perché quello spione che ho seduto vicino a me, sotto il vicino al Baobab, mi ha detto prima che sarebbe legato a un amore. Cioè lei, mi ha detto lui, andava in bicicletta da Pisa a Livorno a trovare a Livorno... Ma che volte sì. Non a fare degli studi sulla Fondazione C a Livorno. Ma perché c'era una ragazza a Livorno. Eh sì. Si può dire, sì. C'era una ragazza. C'era una ragazza, lo possiamo dire. Quindi fischi... E' una bellissima. Le prime conoscenze della gioventù, diciamo. Poi eravamo giovani che ci si muoveva. Ci incontravamo a un certo punto al Calambrone, sulla strada tra Pisa e Livorno. Si riusciva a pedalare e cantare insieme. Oggi penso che non ce l'ha fatto più. No, oggi il fiato manca, manca per tanti minuti. D'Alema, è bello che siamo entrati con Azzurro in questo mondo di nostalgia, perché leggendo a Mosca l'ultima volta che è il suo, devo dire, bellissimo libro su questo viaggio a Mosca sul viaggio a Mosca con Berlinguer che è stato uno degli ultimi momenti che l'ha passato con Berlinguer ovviamente non lo poteva sapere allora erano i funerali di Andropov nel febbraio dell'84 tanto per far ricordare anche al nostro pubblico dove siamo e in questo libro, insomma, al di là degli aspetti politici c'è un aspetto umano che poi ci permette di leggere con passione l'altro ce l'ho qua aspettate che lo tiro fuori eccolo qua a Mosca l'ultima volta edito da Solferino in viaggio con Enrico Berlinguer e dicevo c'è questo elemento della nostalgia e dell'umanità di Berlinguer e ci sono tanti aneddoti ce ne racconta uno perché gli aneddoti sono il modo migliore per ricordare il passato e i personaggi a me ha colpito quello del colbacco o meglio del cappello tirolese cioè Berlinguer girava per Mosca con un cappello tirolese che detta così sembra una follia ma perché? perché lui soffriva il freddo faceva parecchio freddo a Mosca d'inverno ma non voleva essere fotografato col colbacco non voleva vedere questa sua immagine col colbacco ma vede io credo di avere reso in questo racconto in questa parte di racconto che c'è in questo libro il fatto che Berlinguer aveva una distanza non solo politica dalla liturgia del comunismo sovietico ma anche antropologica cioè proprio lui non li sopportava e quindi non voleva vedersi nella divisa della della burocrazia sovietica lì sul sul palco col colbacco vicino agli altri esponenti del regime preferiva onestamente il ridicolo del cappellino tirolese ma che in qualche modo lo distingueva però c'è una cosa che io non ho raccontato in quel libro perché quando lo scrivo perché questo libro era stato pubblicato poi è stato riscoperto da Solferino anzi li ringrazio di questa insistenza perché abbiamo reso omaggio a Berlinguer siamo nel centenario della sua nascita ma lì si racconta che noi giocammo a carte con Pertini Andreotti e Dio contro Pertini e Berlinguer e Andreotti e Dio vincemmo ma insomma Andreotti era un compagno di gioco perfetto e perfido nel senso che la coppia non sbagliava questa è inedita proprio sì inedita e Pertini si arrabbiò moltissimo e veramente se la presi a male buttò per aere le carte fu una scena abbastanza imbarazzante e Berlinguer no perché Berlinguer non importava nulla di perdere la partita a carte giocava con molto distacco e questa è una delle ragioni per cui perdevano le partite diciamo uno e alla fine lui mi prese da parte e mi rimproverò è l'unica volta diciamo non mi ha mai rimproverato per ragioni politiche ma mi rimproverò in modo severo e perché e mi disse e mi disse quello è un uomo importante nella vita nella storia di questo paese e non avergli fatto fare dei punti è un atto di arroganza intellettuale e lui mi disse una cosa di cui io poi non ho mai tenuto conto fino in fondo mi disse una persona intelligente non deve essere arrogante perché questo è un limite molto grave anche della sua intelligenza fu molto severo perché noi avevamo in qualche modo umiliato diciamo sia pure così giocando a carte scherzosamente il il presidente della repubblica ma al di là della carica un uomo a cui lui teneva molto e questo non l'ho voluto scrivere quando ho scritto questo ricordo perché insomma è una cosa abbastanza però oramai sono abbastanza vecchio per dirlo perché mi fece vergognare e mi fece riflettere anche se poi dopo non è che ne ho sempre tenuto conto nella vita però insomma quel rimprovero è rimasto io non oso immaginare cosa avrebbe detto Berlinguer se avesse conosciuto Renzi ma proprio questo è un altro discorso Berlinguer se fosse oggi col governo di oggi ma perché io ancora una cosa volevo chiedere perché quando si finisce di leggere un libro c'è sempre una prima domanda che si ha voglia di fare all'autore io quindi ho questa fortuna la faccio e gli chiedo ma perché ancora oggi c'è da parte non solo sua ma di tantissime persone una nostalgia di Berlinguer che è sicuramente una cosa giusta ma è esasperata forse dal luoto che c'è oggi perché c'è ancora questo culto di Berlinguer ma guarda io penso sì che forse oggi c'è una certa un certo rimpianto della politica abbiamo passato tanti anni non io ma molti diciamo anche voi diciamo nel senso di voi opinionisti della grande stampa abbiamo passato tanti anni a demolire la politica e alla fine con successo diciamo perché credo che sia insomma noi viviamo tra le macerie diciamo di un sistema politico democratico questa è la verità questo vale per tutti non è un giudizio su chi ha vinto le elezioni e e adesso tutti quanti siamo un po' pentiti di avere demolito la politica e sentiamo un certo rimpianto e questo vale in generale per la prima repubblica adesso naturalmente la storia della prima repubblica è stata una storia molto contrastata luci ed ombre ma non c'è dubbio che ci sono almeno due personalità che sono Aldo Moro ed Enrico Verlinguer che fanno parte voglio dire della tradizione migliore della prima repubblica e che hanno in comune in modi diversi non solo come dire il fascino della loro coerenza intellettuale politica ma anche il fatto che sono tutti e due caduti in battaglia Moro tragicamente ucciso dai terroristi e Berlinguer stroncato mentre disperatamente voleva arrivare alla fine del suo comizio sul palco della manifestazione quindi pochi mesi dopo il suo libro in un clima di rimpianto in un clima di rimpianto per la politica è chiaro che queste due personalità ci appaiono come il simbolo della parte nobile della prima repubblica e che quindi torna nella memoria di tanti ma la cosa che mi colpisce a volte persino nell'immaginazione di tantissimi ragazzi che Berlinguer non l'hanno mai conosciuto lo hanno conosciuto solo attraverso il racconto dei genitori dei nonni prima di mostrarle una piccola clip volevo chiedere una battuta che giudizio dà che effetto le fa il governo Meloni si sarebbe mai immaginato di un giorno di vedere un governo adesso io non esagererei perché noi abbiamo avuto fini vicepresidente del consiglio la camera cioè non è non è la prima volta che accade diciamo che la destra va al governo del paese è già accaduto anche la destra diciamo che ha quella origine certo a me colpiscono diverse cose ma adesso qui non siamo in sede di analisi una cosa che mi colpisce che non riguarda tanto il governo Meloni è questo che nessuno è un commento che non ha fatto nessuno perché i numeri non li legge nessuno sono passati di moda diciamo le analisi del voto non le fa nessuno ma quando Berlusconi e noi ci disputavamo il governo del paese la sfida veniva sul livello di 19 20 milioni di voti cioè per governare l'Italia bisogna pagliare 18 18 e mezzo 19 milioni di voti oggi noi abbiamo una larghissima maggioranza elettorale che si basa su 12 milioni di voti e questa la dice lunga su tutti quelli che non danno più all'entrare vi mostro questa clip questo è impressionante è davvero impressionante guardiamo la clip che ci porta invece nell'attualità della settimana ho sentito dire che io vorrei le donne un passo dietro agli uomini mi guardi onorevole Serracchiani le sembra che io stia un passo dietro agli uomini ecco intanto ci hanno raggiunto Chiara Valerio benvenuta Chiara la prima volta che sei alle parole invece Mario Calabrese che ormai è una B2 ciao Mario benvenuto allora D'Alema inevitabile la domanda chissà quante volte gliel'hanno fatta ma stasettimana è inevitabile perché la sinistra non è stata capace di produrre un leader donne io non lo so questo detto così non è esatto diciamo cioè un segretario donna un presidente leader donne leader donne ne abbiamo promosse abbiamo prodotte tante diciamo quindi non è non c'è un impedimento di rimente per la sinistra a produrre una leadership femminile esistono tante possibilità di avere delle leadership femminili anche adesso teoricamente quindi non lo so io penso onestamente che insomma la cosa che colpisce di più di questa vicenda elettorale è come mai forze politiche che sono state divise nel corso di tutta la legislatura perché forze centrodestra sono state divise in tutta la legislatura sono arrivate le elezioni si sono unite mentre quelli che avevano governato insieme l'Italia col governo Conte sono arrivati alle elezioni si sono presentati in tre in tre raggruppamenti e questo rimane sconcertante rimane qualcosa di cui si dovrebbe dare sono milioni di persone che se lo chiedono ma non i tre leader che dovrebbero che dovrebbero chiedere se ne approfitto per farle ancora una domanda proprio che si porta dietro a questa abbiamo visto nell'ultima immagine il silenzio nei banchi della camera di Enrico Letta ecco la domanda più in generale ma il PD secondo lei che fu il primo a criticarlo in maniera molto dura ha ancora qualcosa da dire oppure deve sciogliersi no guardi io io cerco di evitare dalla posizione mia che è quello di uno che è fuori dalla mischia di fare di dare consigli e di dare anche opinioni a volte ingenerose io spero che il PD ritrovi il cammino penso che sarebbe necessario utile per il paese insomma non mi riferisco solo alla sinistra ecco che torni in campo un'alternativa possibile non soltanto un'opposizione e l'opposizione è forte se è in grado di essere un'alternativa possibile quindi spero che ce la facciano mi pare che si sono messi su un cammino molto macchinoso ma insomma sinceramente non 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 voglio per uno io nella vita ho avuto una vita fortunata fatto il segretario del partito anzi prima il segretario della FIGC ma qui aspiravo moltissimo segretario del partito presidente del consiglio ministro degli esteri adesso guardo con un certo ragionevole distacco nella posizione in cui sono io se qualcuno vuole un consiglio da me ve lo deve venire a chiedere ma che io mi metta a brigare a fare eccetera no non lo faccio se ho un'opinione lo scrivo scrivo con una rivista ho scritto un commento dei risultati elettorali e ha scritto questo libro che facciamo rivedere ancora una volta l'ho scritto a Mosca l'ultima volta in viaggio con Enrico Berlinguer grazie e buona serata Roberto vuoi salutare ma io ti abbraccio da lontano voglio un piccolo ricordo piccolissimo tanto comincia ad alzarti siamo andati a vedere io e lui Peppino Di Capri ti ricordi? a Gallipoli sì come io ho visto un D'Alema commuoversi le canzoni di Peppino Di Capri ah beh sì le canzoni napoletane è tutto trattenuto quando c'è da commuoversi si commuove e noi lo lasciamo andare a commuoversi grazie D'Alema buona serata grazie ancora grazie grazie